Palline impastate di terra, semi e argilla lanciate in un campo periferico di Foggia per l'impollinazione. Un gesto ambientalista da parte dei volontari della società civile che va oltre all'intenzione di far fiorire e far nascere nuova linfa dal degrado urbano in quello che un tempo doveva diventare un parco archeologico. Abbiamo immaginato questo evento come evento ludico di aggregazione ma anche utile alle nostre aree verdi urbane che andrebbero sicuramente rivalorizzate e a cui dovremmo prestare più attenzione. Un lancio di bombe, ma bombe di semi vitali per una rigenerazione urbana che è anche un gesto simbolico, Foggia l'inerzia blocca tutto ma non può essere sempre così. Come dire, seminiamo buoni propositi, legalità, bei comportamenti, vero? Sì, sostanzialmente il nostro comitato è impegnato in questo senso a combattere una piccola rivoluzione civica e anche di impegno politico ma di impegno civico. Quindi sì, sicuramente vogliamo lanciare un messaggio ai nostri concittadini, alle nostre istituzioni, ai futuri amministratori e anche a noi stessi. Possiamo fare la nostra parte, possiamo farlo in mille modi diversi, possiamo farlo sicuramente anche con i fiori.